Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dell'abbigliamento d'alpinismo di Ternua. Nel particolare vedremo giacca, secondo strato, pantalone e piumino sia da uomo che da donna. Ma adesso iniziamo subito con la recensione completa perché c'è davvero tanto da dire. Iniziamo dal pantalone Manuachea. È un pantalone d'alpinismo sci-alpinismo, un pantalone hardshell, con una membrana Sheltec Active Flex con 20.000 colonne d'acqua. L'atto vestibilità è un pantalone regular e il che è naturale perché nel momento in cui andiamo a mettere un primo strato al di sotto avremo bisogno appunto di un pantalone al di sopra hardshell che sia abbastanza largo per consentirci comunque libertà di movimento. A livello di feature, beh, ne abbiamo tantissime. Iniziando dalla parte bassa dove sulla parte interna del pantalone troviamo un materiale abrasivo più resistente appositamente studiato nel caso dovessimo ramponarci da soli. Nel momento in cui abbiamo poi anche un bello scarpone possiamo andare a utilizzare la ghetta integrata con anche l'aggancio da mettere sullo scarpone per evitare che ci entri la neve. Ghetta molto intelligente perché è fatta con degli strap proprio per poter andare anche a togliere il pantalone grazie alle due cerniere laterali che troviamo che corrono a tutta lunghezza della gamba. Queste cerniere poi garantiscono anche tutta quella che è la traspirabilità del pantalone perché in base a come le apriamo davvero possiamo renderlo estremamente traspirante. A livello poi di tasche ne troviamo due sulla parte superiore, classica, una destra e una sinistra ne troviamo una ulteriore sulla gamba destra più sulla coscia dove andare a riporre qualche oggetto in più. Abbiamo le bretelle che ci servono per poter tenere su il nostro pantalone ed essere sicuro che non ci cada. Bretelle devo dire fatte bene perché sono facilissime di andare a regolare anche da togliere grazie a una clip e in più nella parte della vita oltre a poter mettere una cintura abbiamo anche una parte elastica fatta con uno strap che ci permette in sé di poter già andare a stringerli. Per quanto riguarda le prestazioni possiamo dire che è un ottimo capo potete veramente andare a fare alpinismo anche sotto la neve e non avrete davvero nessun problema di impermeabilità. Lato traspirabilità invece come diceva Riccardo avendo questo pantalone e tutte le zip laterali che corrono appunto per tutta la lunghezza della gamba anche nelle giornate più calde possiamo andare ad avere un ottimo circolo d'aria e a non soffrire ecco problemi di caldo. Per quanto riguarda invece il secondo strato abbiamo avuto modo di provare il modello Ternua Yugal Jacket nel particolare parliamo di un secondo strato estremamente caldo è fatto in pile nella parte interna e vi assicuro noi l'abbiamo utilizzato fino a meno 10 in movimento ed è veramente veramente caldo. Naturalmente dipende anche il primo strato che vi mettete sotto ma lui di per sé è veramente molto caldo. Ha un'ottima feature poi che è anche quella di trattenere sia l'acqua che il vento. Il vento veramente molto molto bene anche su del vento molto forte non sentiamo il freddo all'interno. sull'acqua diciamo che è idro repellente. Se doveste, faccio un esempio, fare una ciaspolata, fare una sci alpinistica sotto a degli alberi e cadesse della neve dagli alberi non andresse a bagnarvi. Nel momento in cui invece arriva una forte bufera dell'acqua o della neve dovete indossare sicuramente la giacca Arshell. Però veramente lato termicità ci ha sorpreso tantissimo. Lato poi anche protezione dell'ambiente esterno anche qua non ci aspettavamo queste performance. Andando a vedere questo secondo strato un po' più nel dettaglio possiamo dire che è un capo full zip con cappuccio cappuccio anche regolabile, molto apprezzato con le maniche elasticizzate così da limitare l'ingresso di neve, acqua o vento e con un'ulteriore fascetta elastica di sotto all'altezza della vita che possiamo andare a stringere sempre per rendere il capo più aderente al nostro corpo. Infine per quanto riguarda le tasche, queste non sono propriamente le classiche tasche più che altro per la posizione nelle quali sono posizionate. Si trovano infatti non all'altezza del ventre ma un po' più sopra e questo ci consente di raggiungere molto facilmente tutti gli oggetti che abbiamo all'interno. Per intenderci si trovano al di sopra di quella che è la classica fascia lombare degli zaini. Come dicevamo per quanto riguarda le performance, un ottimo capo a livello di vestibilità è abbastanza slim fit lui comunque segue molto bene le nostre forme e lo si può utilizzare per tantissimi tipi di attività noi parlavamo prima alpinismo, scialpinismo ma va bene anche per il classico trekking può andar bene anche magari per fare delle cascate di ghiaccio eccetera è veramente molto molto caldo cioè vi assicuro, poi lo vedremo in accoppiata anche col piumino davvero si può arrivare a delle temperature estremamente basse. Passando alla giacca, anche questa porta lo stesso nome del pantalone quindi Mano Achea ed è appunto inabbinata con il pantalone. E parlando delle caratteristiche troviamo innanzitutto un girovita interno alla giacca che possiamo andare anche a rimuovere ma che è molto utile nel momento in cui andiamo a fare cialpinismo su neve fresca e soprattutto su neve molto alta. Troviamo poi due tasche all'altezza del petto molto spaziose, molto comode per quanto riguarda le regolazioni le troviamo sulla parte finale della giacca all'altezza delle maniche con uno strap da andare a regolare sempre per limitare l'ingresso di freddo e di vento e infine sul cappuccio ne troviamo una dietro la nuca e due all'altezza del collo inoltre il cappuccio è molto spazioso perché è pensato per andare ad accogliere anche un casco d'alpinismo, scialpinismo la giacca è naturalmente full zip, molto comoda, molto scorrevole funziona bene e poi all'interno della giacca troviamo altre due tasche molto comode ma anche molto semplici in cui possiamo andare a riporre gli oggetti che vogliamo restino un po' più al caldo comunque protetti dalla neve, dalla pioggia, dalle intemperie l'unico aspetto che ci ha lasciato un po' la mare in bocca sia sulla giacca poi che sul pantalone è in sé proprio la membrana questa Shelltec è un'ottima membrana dal punto di vista dell'impermeabilità davvero nulla da dire però ci aspettavamo qualcosa di più dal punto di vista della traspirabilità perché è una membrana 20-20, 20k, 20k quindi anche traspirabilità ci aspettavamo qualcosa di più siccome Ternua nel suo catalogo ha una giacca che costa poco di più e però arriva a 90.000 e traspirabilità non dico un'altra giacca da 90.000 però diciamo che ci saremmo aspettati un qualcosa in più rispetto ai 20.000 dati da questa membrana Ternua ci ha messo comunque una toppa sul pantalone mettendoci le cernie laterali idem su questa giacca con le cerniere sotto la scelle però diciamo che proprio dal punto di vista della membrana ci saremmo aspettati un qualcosina di più ecco naturalmente poi però a livello di materiali la giacca è fatta veramente bene si può utilizzare alpinismo c'è alpinismo soprattutto per alpinismo anche cascate di ghiaccio il materiale è fatto molto bene non si strappa, non ha problemi di abrasioni quando si struscia contro la roccia eccetera al fine proprio come materiale è fatto bene solo la traspirabilità ci ha un po' fatto storcere il naso purtroppo infine parliamo del piumino Hampu questo è un piumino anche lui veramente caldo tra il secondo strato di prima e questo piumino potreste arrivare tranquillamente a meno 20 se non anche sotto questo qua davvero utilizzato sia quando si fermi ma anche quando ci si muove magari facendo una cascata di ghiaccio vi assicuro è estremamente caldo è un piumino con un'imbottitura in Primaloft quindi naturalmente la termicità è abbastanza garantita troviamo diverse feature classiche di un piumino come la possibilità di chiuderlo nella parte inferiore per evitare che entri l'aria un cappuccio regolabile anche lui bello imbottito delle tasche sulla parte pettorale dove andare a riporre degli oggetti e poi essendo appunto in Primaloft possiamo anche andare a comprimerlo per poterlo portare all'interno dello zaino bello compresso, bello piccolino è anche abbastanza leggero comunque potendo garantire questa temperatura perché parliamo di un piumino che sta sui 600 grammi di peso e come piumino da meno 20 direi che come peso non è per nulla male infine ultima caratteristica anche lui all'interno ha due tasche fatte in rete dove possiamo andare ad alloggiare qualche oggetto e ha da un'ulteriore tasca con zip nella parte di sinistra a mio parere appositamente studiato per metterci un telefono perché è proprio delle dimensioni di uno smartphone quindi anche a livello di tasche ne abbiamo veramente veramente tante infine una caratteristica che secondo me è sempre interessante sui piumini ha anche un trattamento Pertex Quantum che lo rende diciamo un po' idrorepellente non è di per sé una vera e propria membrana ma se dovessimo prendere della nevicata leggera se dovessimo prendere anche come dicevo prima della neve che cade dagli alberi con questo trattamento Quantum di Pertex comunque si ha un po' di scivolamento dell'acqua e si evita che il piumino in sé vada a inzopparsi dunque arriviamo alle conclusioni per questo abbigliamento da Ternua iniziando dai prezzi la giacca la si trova online a un prezzo sui 450 euro 400 il pantalone 150 il secondo strato e sui 300-350 il piumino ne vale la pena secondo noi? secondo noi sì sì? dal punto di vista di giacca e pantalone comunque i materiali sono buoni ci aspettavano qualcosa di più dalla traspirabilità ma c'è modo di poter ovviare quindi comunque i materiali molto molto buoni quello che ci ha stupito è il secondo strato se siete amanti proprio degli stati caldi oppure non vi piace tanto l'idea di stratificare avere i tanti vestiti addosso o ancora non vi piace l'idea di mettere magari un piumino questo secondo strato è veramente l'ideale perché va a coniugare veramente una termicità assoluta alle proprietà antivento e idrorepellenti che comunque tornano sempre utili nella stagione più fredda e anche il piumino comunque parliamo di un piumino come dicevo che si può andare fino a meno 20 prima loft sui 300 euro secondo me ci sta anche come caratteristiche diciamo che in generale come avrete capito quelli che ci hanno stupito di più sono stati il piumino e il secondo strato la giacca e il pantalone sono dei classici Arshell e infine naturalmente non possiamo non fare un accenno a tutta la politica green di Ternua se volete saperne di più vi invitiamo ad andare sul loro sito che davvero è spiegata benissimo ma per darvi un accenno tutto quello che avete visto è fatto da materiali riciclabili materiali già riciclati Ternua ci tende a specificare anche all'interno dei capi magari quante bottiglie d'acqua sono state riciclate per poter fare quel capo e via dicendo se magari i prezzi sono un pochino più alti rispetto a quello che può essere la concorrenza è proprio dato anche dal fatto del rispetto dell'ambiente che ha Ternua che naturalmente poi quando si va ad avere così alto rispetto dell'ambiente il prezzo tendenzialmente tende un pochino a salire però davvero vi invitiamo ad andare sul loro sito e informarvi prima di acquistare i capi perché ce n'è davvero tanto tanto da leggere e detto ciò ragazzi non la speranza sia stati esaurenti e esaustivi anche per questa recensione vi ringraziamo per la guardata e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao